Ciao ragazzi e bentornati su Flash Trend Ita. Oggi vi parlo di uno scontro davvero acceso al grande fratello tra Lorenzo Spolverato e Giulia Bruschi. Lorenzo ha attaccato Giulia per non averlo difeso durante le nomination, ma la sua reazione è stata immediata. Rimanete con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa lite e cosa potrebbe succedere tra di loro. La tensione nella casa del grande fratello continua a salire e questa volta i protagonisti sono Lorenzo Spolverato e Giulia Bruschi. Tutto è iniziato dopo le ultime nomination palesi che hanno lasciato Lorenzo visibilmente deluso. Il concorrente milanese ha accusato Giulia di non essersi schierata dalla sua parte, nonostante le critiche ricevute dagli altri inquilini e di essere rimasta neutrale. Lorenzo si è sentito tradito ammettendo di aver sperato che Giulia lo difendesse, soprattutto quando gli è stato dato del codardo, ma Giulia infastidita dalle accuse ha risposto subito ti vedo cambiato in questi giorni, io non ho voluto puntare il dito su nessuno, ho semplicemente detto la mia e qui ragazzi la discussione si è infuocata. Giulia ha spiegato che nonostante provi ancora fiducia verso Lorenzo ci sono stati degli atteggiamenti poco chiari che l'hanno portata a distanziarsi. Delle volte ti vedo sincero, delle volte no, non puoi pretendere che io non cambi idea, ha dichiarato la concorrente toscana. La questione sembra molto più profonda di quanto sembri e io mi chiedo, è possibile che la dinamica tra Lorenzo e Giulia sia cambiata per una questione di strategia? E come evolverà questo rapporto nella casa? Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna novità dal Grande Fratello e tutti gli altri reality show. Un abbraccio e ci vediamo presto con nuove chicche tutte per voi. Ciao ciao!